ok ragazzi guardate vigni vigni è incredibile ha delle mani d'oro ve lo dico subito allora ha fatto dvd questo uomo quindi alla potenza asso di quadri dentro taglia non è sopra non è sotto mescola mescola più volte qualsiasi numero ora può dire qualsiasi numero ragazzi undicesima carta credibile che velocità eh gli americani sono forti ragazzi ok manuela io gli ho dato già il voto tu anche lo vedranno sotto al video continuate a seguirci ragazzi ciao 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 ciao